Nel 305 d.C., come previsto dal sistema della tetrarchia, Diocleziano abdicò e costrinse il suo collega, l'Augusto Massimiano, a fare altrettanto. Dal palazzo di Spalato, in cui si ritirò, l'anziano ex imperatore dovette però assistere al fallimento della tetrarchia, con la quale aveva sperato di risolvere il problema della successione al trono imperiale. Nel 306, infatti, dopo solo un anno dall'abdicazione di Diocleziano e Massimiano, morì Costanzo Cloro, l'Augusto d'Occidente, mentre era impegnato in una campagna militare in Britannia. Le sue legioni a quel punto proclamarono imperatore non Severo, Cesare e legittimo successore di Costanzo, ma il figlio di Costanzo, Costantino, contemporaneamente a Roma. I pretoriani acclamavano imperatore Massenzio, figlio di Massimiano. Lo scontro tra i due pretendenti al trono si protrasse fino al 312 d.C., quando Costantino sconfisse Massenzio nella battaglia di Ponte Milvio, presso Roma, rimanendo l'unico padrone dell'Occidente. Intanto, a Oriente, dopo la morte dell'Augusto Galerio, era prevalso Licinio, un generale originario della Dacia che estese il suo potere sulla Tracia, sull'Egitto e sulle province asiatiche. Dopo un fragile accordo stipulato a Milano nel 313 d.C., nel 314 Costantino si liberò anche di Licinio. L'Impero, ora, era tutto nelle mani di Costantino, che lo resse fino al 337, anno della sua morte. Egli proseguì e perfezionò l'opera di Diocleziano nel campo amministrativo e militare. Ma rispetto a quest'ultimo fu un innovatore, soprattutto sotto due aspetti. Sul piano politico il Principato viene definitivamente superato e il governo dell'Impero diventa una monarchia a tutti gli effetti. Dal punto di vista religioso, nei rapporti con i cristiani, l'atteggiamento dell'autorità imperiale mutò radicalmente di segno.